Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Il primo di due o forse meglio tre appuntamenti dedicati alla memoria di Don Tullio Contiero a cinque anni dalla morte e in coincidenza con la pubblicazione del volume di Pier Maria Mazzola sulle strade dell'utopia, edito dalla EMI. Io intanto ringrazio il Centro Studi Donati che ha organizzato questa serata. Due parole ve le dico prima io sul libro, ve le dico in fretta perché voglio dare la parola ai nostri illustri ospiti. Un libro che ho trovato bellissimo, qui c'è seduto l'autore che è Pier Maria Mazzola. Un libro che dipinge con sobrietà ma anche con passione, un ritratto fedele di Don Tullio Contiero. È un libro fedele. Così che chi ha conosciuto Contiero, chi non ha, scusate, conosciuto Contiero farà leggendolo un incontro emozionante con un profilo di prete e di uomo per tanti aspetti esemplare nella sua tipicità. E chi lo ha conosciuto, ho l'impressione che molti di voi siano tra quelli, sarà felice di poterlo rincontrare così vivo in queste pagine, con la sua autentica passione evangelica, con le sue invettive, il suo linguaggio sessantottino, oggi fuori corso. Basterebbe analizzare come usava la parola borghese, sapientemente strumentalizzato all'unico fine di convertire al Vangelo, alla dottrina sociale della Chiesa, all'Africa, al sud del mondo, qualche futuro medico, avvocato o agronomo. E con la poesia, cui soprattutto negli scritti sapeva abbandonarsi. A me che l'ho avuto come insegnante di religione al liceo e poi ho continuato a seguirne l'attività, pur senza mai diventare uno dei suoi, ma che ho goduto dell'onore una sera del 96 di essere invitato a parlare a una delle sue famose conferenze, onore che stasera mi è stato rinnovato in qualche maniera. Dicevo a me, la cifra di Contiero che più è rimasta impressa, anche leggendo questa sua biografia, è stata la credibilità. Ecco, io vorrei sottolinearlo molto questo termine perché è una moneta, anche quella, non dirò fuori corso, ma difficile da trovare. Ecco, Don Contiero è stato un uomo e un prete credibile perché credeva incondizionatamente in quel che faceva e perché non ha certo inseguito le mode, anche nell'attenzione agli ultimi si può essere tentati di inseguire le mode. Lui non lo ha fatto e forse per questo che non è diventato, come annota molto acutamente Mazzola nel libro, un prete mediatico. Piuttosto è rimasto fedele a se stesso, a quelle utopie che sono passate anche nel titolo e che in una pagina della octogesima adveniens, una pagina che sicuramente Contiero avrà conosciuto e amato e che mi è capitata sott'occhio in questi giorni per caso, lavorando ad alto, lavorando a quel testo che il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ha recentemente pubblicato in vista del G20 di Cannes. Dicevo Paolo VI così commentava la parola utopia, partiva da una critica e poi aggiustava, cito, Bisogna però riconoscere che questa forma di critica della società esistente stimola spesso l'immaginazione prospettica. Ecco un'altra espressione che funziona molto bene secondo me con Contiero, l'immaginazione prospettica. Ha un tempo per percepire nel presente le possibilità ignorate che vi si trovano iscritte e per orientare gli uomini verso un futuro nuovo. Tramite la fiducia che dà alle forze inventive dello spirito e del cuore umano, essa sostiene la dinamica sociale e se non si nega a nessuna apertura può anche incontrarsi con il richiamo cristiano. Oltre a Don Contiero il libro ha tre protagonisti, sono i simboli, i luoghi, meglio ancora, le ragioni della vita e dell'opera di questo prete, i luoghi in cui ha così efficacemente saputo incarnare il Vangelo. E li ritroviamo rappresentati nelle persone che il Centro Donati, che come vi dicevo ha organizzato questi appuntamenti, ha invitato. Parlo della Chiesa, dell'Università e dell'Africa del sud del mondo. L'Africa è connessa a tutto il sud del mondo, che per Don Contiero rappresenta l'altro cui gli studenti universitari dovevano imparare a farsi prossimo. Il povero Cristo da amare, così ferito e piegato dall'ingordigia dei ricchi e dei potenti, sarà in certo modo rappresentata martedì prossimo da padre Alex Zanotelli, notissimo missionario comboniano. Poi l'Università, che invece qui è rappresentata stasera al suo più alto livello, perché è con noi il magnifico rettore, il professore Ivano Dionigi. Era per Don Contiero il bacino naturale dal quale attingere i proseliti della sua religione e dell'impegno in favore delle popolazioni povere dell'Africa e dell'America Latina. Ancora più mentre e dopo che il 68 aveva scosso le forme tradizionali di insegnamento e di rapporto con gli studenti. Così che, mentre cercava donne e uomini disposti a dare la propria vita e il proprio talento professionale, o almeno una parte di essi, per la causa dello sviluppo dei popoli, offriva anche all'Università stessa un metodo formativo, i suoi viaggi di studio, atipico ma sommamente efficace. Prego dunque il professor Dionigi di portare il suo saluto. Un cordiale saluto a tutti di benvenuto e un ringraziamento al Centro Studi Donati per avermi invitato e un saluto particolare ai giovani presenti. Qui ritrovo vecchi amici, anche giovani e giovanissimi. Questo è un gran bel segno. Qualcuno ha insistito per chi io venissi e mi ha ringraziato, ma sono io che vi ringrazio senza nessuna retorica perché questo è uno di quegli incontri in cui uno ha l'occasione di uscire forse migliore di come è entrato in sala. Ma di Don Contiero, ecco, siccome è un testimone è giusto che parli qui, è Monsignor Bregantini che è un testimone. I testimoni devono essere ricordati dai testimoni. Quindi semplicemente voglio portare il saluto dell'università e anche mio personale. Pensando a Don Contiero mi viene proprio, era un uomo tutto di un pezzo, però mi viene da dire che anche lui era nel segno del 2, questo uomo che era così dolce e così duro, così aristocratico e popolare. La prefazione qui di Monsignor Bregantini dice che giustamente al suo funerale quel pomeriggio accanto ai baroni c'erano anche i barboni ed è vero, era proprio così. Questo uomo così timido e provocatorio, lui io lo ricordo come un grande motivatore, è un uomo che aveva del carisma, che sapeva coinvolgere, perché quando uno ha quegli occhi lì, ha quella generosità lì, ecco, riesce a coinvolgere. Tutta l'università ha sempre mi ricordato, tappezzata proprio di questi suoi manifesti dei viaggi in Africa, ecco. Io ricordo da quando ero studente, fino agli anni dopo, questi suoi viaggi in Africa dove credo che Marina e Marco Biaggi abbiano dovuto tanto a lui e alla fine credo che l'abbiano ben ricambiato, anche lui alla fine doveva tanto a loro. Io sono partecipato a molti dei suoi incontri, allora lì all'aula di istologia, lui era un grande creatore di occasioni e di incontri, di opportunità. Lui era al limite della dissipazione, era quasi un dissipatore, come lo ricordo così, non badava a dare, ecco, fino a... E ti dava la possibilità di ascoltare le persone così, da Moro ad Arturo Paoli, cioè dal numero uno del potere fino al testimone degli umili, per fare un accenno. e faceva tutto con entusiasmo proprio, oggi c'è tutto questo mito, i vecchi, i giovani, ci sono dei giovani vecchi e dei vecchi giovani, lui fino alla fine è stato un vecchio giovane, in questa sua visionarietà. Mi ricordo una volta che si perse proprio dove il suono ad un certo punto prevalse sui concetti, in un'esaltazione dell'ecumenismo, socialismo, gli scappodetta anche la parola comunismo, dove ecumenismo, socialismo, ecco, tutte le utopie erano sue, insomma. Questo è... Io me lo ricordo quando ero studente al Collegio Morgagni e poi anch'io mi sono mosso sempre in pochi metri, a parte una parentesi di quattro anni fuori, ma così in quel piccolo centinaia di metri quadri di cemento, tra Largo Trombetti, Piazza Verdi, Via Zamboni, dove anche lui, e così lo si incontrava, ricorda gli anni del collegio fino alla fine, quando la malattia l'ha colpito e non mi riconosceva. Non si può non ricordare questa espressione riportata come frase squillo qui del libro, sia maledetta la scienza che non si trasforma in amore. E lui era una spina nel fianco per noi universitari, insomma, proprio questa scienza e amore. Qui viene fatto un accenno proprio che è della caritas in verità. Io direi questo sì, però è che in contiero forse sia anche la realizzazione dell'espressione paolina, proprio, della veritas in caritate. Se dovessi scegliere, sceglierei questo, che è della veritas in caritate. Per lui il primo punto c'era la caritas lì dove scopriva la verità. Delle volte mi viene da dire, vedendo il mestiere che mi è capitato di fare, chissà quale battuta dolcemente affettuosa mi avrebbe fatto oppure ferocemente provocatoria. Grazie. Bene, per suggellare queste battute legate all'università, una poche righe, leggo dal libro, è una relazione che Don Contiero fa nel 91 al vescovo ausiliare di allora, che era Monsignor Claudio Stagni, che oggi è vescovo a Faenza. Precisando meglio la parte culturale di questo viaggio, che sostanzialmente consiste in un accelerato corso accademico sul terzo mondo, questa era l'idea dei viaggi. Mi pare utile verbalizzare quanto è stato visto e detto sulla Chiesa e sul suo pensiero, la vita missionaria, il volontariato e la cooperazione. Dal 27 luglio a questa mattina il gruppo ha vissuto forti esperienze per la presenza di relatori di eccezionale elevatura spirituale, di grande testimonianza e di spiccato valore scientifico in cinque direzioni, religioni, economia, politica, fame e medicina. Sottolineo il valore scientifico dei cattedratici universitari, appartenenti ai tradizionali ordini religiosi, i dominicani dell'Egitto, i combognani, il francescano giornalista e il padre gesuita. Affrontarono sotto diverse angolature il tema cristianesimo e islam, coadiuvati da professori laici presenti al Cairo per ricerche e corsi delle università di Lovagno, Sorbona, Alessandria d'Egitto, Khartoum. Pure la giornata all'istituto di istologia con le piramidi a vista d'occhio merita un ricordo a parte, poi via via va avanti per due o tre pagine. Bene, abbiamo detto l'Africa, l'università, la Chiesa. Rappresentata qui da Monsignor Antonio Allori, Vicario Episcopale per la Carità e la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, e da Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Alcivescovo di Campobasso. Perché la Chiesa che questo prete incarnava era una Chiesa che si protendeva nella missione ad Gentes e lo faceva attingendo nuove motivazioni, oltre a quelle tradizionali dell'evangelizzazione, nella dottrina sociale, soprattutto in quel suo secondo filone che attraverso le encicliche Pace Minterris di Giovanni XXIII e ancor più Populorum Progressio di Paolo VI veniva declinato a favore della promozione umana delle popolazioni dei paesi poveri ex coloniali. Forse oggi questi due titoli suonano come tanti altri, prima il professor Dionisi ha citato la Caritas in Veritate e via discorrendo. Per Don Contiero non era così e in quel tempo non era così. In quel tempo, in particolare questi due testi, ma direi soprattutto la Populorum Progressio, rappresentarono una svolta, un incentivo, una rivoluzione per i cristiani ai quali era indirizzata. Io adesso non so se qui si vede, ma ho portato l'annata della mia rivista Il Regno del 67. Io avevo dieci anni, quindi non è merito mio questa roba che vi sto facendo vedere. E per l'uscita della Populorum Progressio venne organizzato un numero speciale della parte di documentazione assolutamente atipico rispetto a quello che la rivista ha cominciato a fare in quell'anno e ha continuato a fare per 50 anni, fino adesso insomma. Vedete che ci sono immagini che noi non mettevamo mai quando pubblichiamo i documenti, fuori testo, guida di lettura. E va avanti così per tutto il numero. L'unica altra volta, e questo ve lo dico per certo, nella storia della rivista che è stato fatto qualcosa del genere è stato quando è morto Giovanni Paolo. Secondo, non ci sono altri casi in cui testi di documentazione siano stati trattati con questa cura. Questo per dirvi persino l'attesa, perché questo era stato preparato quando l'enciclica ancora doveva uscire. Bene, la parola per un saluto anche a Monsignor Allori prima di ascoltare Monsignor Brigantini. Sono onorato di portare il saluto di sua eminenza il Cardinale Arcivescovo ed esprimere la sua riconoscenza a Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Maria Brigantini, Arcivescovo di Campobasso Borriano e anche Presidente della Commissione Episcopale per i Problemi Sociali, il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie. Al magnifico Rettore dell'Università che ci ospita, ai relatori, agli organizzatori e a voi tutti. Un saluto particolare perché in questo convegno si ricordi innanzitutto un sacerdote della nostra Chiesa polonese. Un sacerdote che, a modo suo, senz'altro, però ha saputo incarnare nell'arco di oltre 40 anni di ministero quanto San Paolo dice al suo discepolo Timoteo. Ti scongiuro, annuncia la parola, insiste al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con magnanimità e insegnamento, verrà anche un giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Don Conciero fa parte di una schiera numerosa di sacerdoti che, sotto l'Episcopato del Cardinal Lercaro, a volte su strade molto diverse fra di loro e di certo la strada di Don Conciero era molto diversa da quella di tanti altri, ma tutti hanno illuminato la storia della nostra città e della nostra chiesa bolognese, ravvivando quella lunga e profonda tradizione di carità, di sapere e di santità, in una proficua collaborazione fra la luce del Vangelo, il sapere dell'Università, che affonda le sue radici nell'icona di San Petronio, Defensor Civitatis e Padre Paltaro. Mi è piaciuta la dicitura del sottotitolo di questo convegno, La lezione scomoda di Don Conciero. Qualcuno avrebbe detto, e non mi ricordo più se è anche scritto, Prete scomodo. Mi piace di più la lezione scomoda. Che Don Conciero è stato anzitutto sacerdote di Cristo, appassionato di Cristo. E se ci si lascia appassionare da Cristo, non puoi che lasciarti prendere da un amore senza confini verso i fratelli, specie versi più deboli, perché, come dice San Giovanni, chi non ama il fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Oppure, per usare un'espressione della tradizione apostolica, e che, adattata e raccara al Cardinal Lercaro, se condividi il pane celeste, non puoi condividere il pane terreno. Don Conciero era un tipo che affassinava e trassinava, per molti spesso spigoloso ed esigente, a tratti anche urtante, bisogna dirle. Non poche volte in frizione, anche con i fratelli, i colleghi, con l'istituzione. Ma penso che questa sera dobbiamo guardare in particolare al fuoco che vi era dentro e dietro al suo agire, alla sua capacità di coinvolgere l'amore. L'amore verso Dio e l'amore verso l'uomo. Nell'enciclica Caritas in Veritate, che il magnifico rettore dell'Università ha ricordato prima, il Papa scrive nell'introduzione la carità nella verità di cui Gesù si è fatto testimone nella sua vita terrena, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. È una forza straordinaria che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace. È una forza che ha la sua origine in Dio, amore e verità assoluta. L'incontro di questa sera sia un contributo costruttivo per imparare la lezione, questa lezione scomoda della carità. Grazie Monsignor Allori. Sì, anch'io ho fatto questo ragionamento sui preti della Chiesa di Bologna della generazione di Don Contiero perché è stata una messa straordinaria chi ha avuto la fortuna di conoscere questi uomini, uomini anche così diversi, ma proprio perché così diversi e tenuti insieme in un unico presbiterio, così capaci di rispondere alle domande delle persone e di valorizzare quella che per me è una grande virtù della Chiesa, che è il suo essere plurale. La Chiesa non è pluralista nel senso che non valorizza la diversità per se stessa, ma certamente io credo la Chiesa è plurale. Ecco, di questa pluralità molti sacerdoti bolognesi, alcuni religiosi, altri diocesani, alcuni originari di questa città, altri portati in questa città dai vescovi che l'hanno guidata, e dicevo, di questa pluralità hanno dato una testimonianza straordinaria di cui credo tanti di noi si sono giovati. E sempre per restare su questo tema della Chiesa di Bologna ho scelto un'altra pagina, è ancora Don Contiero che parla, ma mi sembra bello e giusto ascoltare anche lui questa sera ed è una relazione che lui fa al Cardinale Giacomo Biffi in un fine anno accademico. Scrive l'autore, Contiero mette in risalto il successo delle sue iniziative pur realizzate con scarsi mezzi per far balenare i frutti che si potrebbero raccogliere con un più deciso impegno. E dice, per la scelta dei temi e le testimonianze dei diversi relatori impegnati da anni nel mondo missionario, le conferenze hanno assai onorato la Chiesa e la scienza tramite un dialogo con tutta l'università e con le scuole per infermieri del Sant'Orsole e dell'ospedale Maggiore, un servizio pastorale a livello scientifico per evangelizzare le diverse discipline universitarie non trascurando un apostolato concreto. In occasione delle varie conferenze, i giornali e le radio private tempestivamente informati hanno dato una sollecita e amichevole collaborazione. Inoltre, i manifesti significativi sono stati affissi di settimana in settimana nell'ambito universitario. Un lavoro faticoso ma di presenza rispettosa data la diversità di culture in un ateneo di immigrati. Le spese per i manifesti, state a vedere come dal tono burocratico si sale verso un certo calore. Le conferenze, i relatori e la loro ospitalità sono state affrontate esclusivamente dal sottoscritto. D'altronde, se si vuole incoraggiare qualche vocazione religiosa nell'ambito universitario e se si vuole impegnare i ragazzi nelle realtà di emarginazione del terzo mondo di Bologna città ed oltroceneo, oceano, questi 25 incontri annuali sono indispensabili. Anzi, ci sarebbe da fare un lavoro più dettagliato per le facoltà scientifiche e migliorare i contatti alla facoltà di medicina sui temi medicina e morale. E poi va avanti per orare la sua causa, la sua ipotesi ventennale di una parrocchia universitaria. È giunto il momento di ascoltare l'arcivescovo Monsignor Bregantini che all'inizio della prefazione del volume dice una cosa bellissima. Mi ci sono rispecchiato nell'itinerario interiore di questo prete e noi aggiungiamo anche nell'itinerario esteriore giacché nella biografia di Monsignor Bregantini compaiono molti tratti che ce lo fanno sentire vicino al nostro Don Tullio. Anche se non ha certo bisogno di presentazioni ricorderò che originario di Trento religioso stimatino formatosi alternando allo studio il lavoro operaio ha esercitato il ministero prima in Calabria e poi in Puglia sempre vicino ai poveri ai malati ai carcerati ma anche impegnato nelle scuole come insegnante di religione e in seminario come docente di storia della chiesa per poi essere nominato vescovo a Locri dove dal 94 al 2007 ha caratterizzato la sua azione di pastore mobilitando le coscienze dei cristiani e di tutti i cittadini a reagire e a opporsi all'andrangheta una sensibilità che ora sta declinando nella responsabilità che riveste a livello nazionale che è già stata ricordata di presidente della commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro la giustizia e la pace lo ringraziamo di essere qui e ci disponiamo ad ascoltarlo grazie mi onora mi onora a questa presentazione e ancor più essere stato invitato a fare una premessa a questo bel libro di Pier Maria Mazzola sulle strade dell'utopia di Don Tullio Contiero è stata come ho scritto una piacevolissima esperienza che sento riflessa qui in questa serata nelle parole meravigliose di chi l'ha conosciuto come il Rettore Magnifico come la realtà della Chiesa Bolognese che ne è fiera pur nella diversità di fatica di scelte quotidiane e poi dalla lucida presentazione del giornalista del Regno che ha seguito come competente il cammino evolutivo di quest'uomo di Dio e per parte mia ritengo che veramente questa esperienza di questi testimoni ci aiutino tantissimo oggi nella nostra vita ad essere capaci di entrare con un segno ma di uscire come diceva lei con un coraggio più grande perché ci aiutano e quello che io vorrei stasera delineare anche se in maniera ovviamente inadeguata rispetto a chi l'ha conosciuto da un contiero io non ho avuto questa gioia se non tramite gli scritti ma mi piacerebbe cogliere alcune linee un metodo per cui questo incontro non è solo ricordare ma un ricordare per vivere un vivere per poter portare anche in questo momento delicatissimo della storia d'Italia in questi giorni si decide un cammino preziosissimo ma anche importante davanti alle tante sfide del futuro in questa dimensione qual è in fondo il compito di chi ha questo dono grande della fede da portare o comunque gli uomini di buona volontà che desiderano contribuire alla crescita del paese ed è bello fare questo incontro dentro l'università sia per il ricordo di Don Contiero ma anche perché qui sono i luoghi in cui si progetta il futuro si guarda avanti ed è anche per questo per me un grande momento di onore poter dire alcune cose che ci possono aiutare certamente parto da tre punti teologici che mi sembra importante porre come fondamento proprio perché sono parole grandi quelle che lui ha scritto nate da un cuore innamorato di Cristo che ha sentito nella fede la ragione della sua vita e sono questi che ho elaborato anche per la diocesi di Campobasso frutto di tanti anni di esperienza come è stato detto lungo la strada del sud la prima parola è quella che io imparai da un missionario molti anni fa poiché siamo figli di Dio diventiamo fratelli ve la ripeto poiché siamo figli di Dio diventiamo fratelli figli si è sempre anche quando si è indegni anche quando si scappa di casa anche quando non si riesce a coltivare una relazione positiva con il proprio papà figli si è sempre e questa correlazione con l'esperienza di figli dà dignità alla persona ad ogni persona ad ogni persona e quindi nel cammino nel volto di ogni persona è presente il riflesso della presenza stessa di Dio ma poiché siamo figli diventiamo fratelli ed ecco la sfida della società non si è fratelli si diventa fratelli ma non si diventa figli si è figli ve lo ripeto perché è decisivo anche nella realtà di oggi specialmente nella realtà di oggi davanti alle situazioni più grandi della mondialità poiché siamo figli diventiamo fratelli e si riscopre il dono del battesimo proprio stamattina noi abbiamo fatto come Diocesi una riflessione con i sacerdoti su questo tema il battesimo ti dà quell'impronta di figlio in Cristo Gesù che diventa radicalmente riconosciuta dal Padre per poter essere riconosciuta dall'altro e il secondo punto teologico è quello che raccoglie il decennio educativo della CEI costruire una comunità dove l'altro non è un limite non è tuo limite ma tua pienezza l'altro non ti limita ma ti completa ti costruisce ti realizza ti dà la capacità di essere autenticamente te stesso tu da solo non ti puoi costruire hai bisogno dell'altro l'altro perciò non ti è fardello ma ti è fratello questa bellissima poesia antica no? di una bimba che portava con fatica il suo fratellino sulle spalle il poeta la incontra e dice ma bimba mia non fai fatica non ti costa non ti pesa la bimba risponde no non mi pesa non è un fardello ma è mio fratello questo è il punto nodale sono spiritualità di contiero capite figli fratelli e perciò l'altro mi completa mi diventa potenzialmente realmente capace di darmi tutto quello che io sono in questo senso la grande intuizione di Don Contiero di cui siamo grati sempre di più anche per tutta la nostra società è la preziosità della fragilità la fragilità diventa preziosa la fragilità sociale ma anche la fragilità personale cioè sentire che le ferite della vita sono capaci di diventare eloquenti e qui perdonate una mia esperienza personale che mi ha aiutato tantissimo io appartengo alla congregazione religiosa dei preti delle stigmate di Gesù che è stata istituita a Verona due secoli fa da un santo prete San Casparo e Bertoni lui ci ha dato come immagine un Vangelo che ritroviamo vivissimo nella vita di Don Contiero quando Cristo il giorno di Pasqua appare nel Cenacolo manca però Tommaso sapete la storia Tommaso si offende e dice no tu mi hai lasciato fuori gioco mi hai dimenticato e ora lancia una sfida dice io ti voglio incontrare perché io voglio credere in te solo se metto le mie mani il mio dito dentro le ferite e Gesù accetta la sfida entra otto giorni dopo a porte chiuse in quel luogo nel Cenacolo e dice a Tommaso quelle tre parole meravigliose che sono un cammino quando gli dice guarda le mie ferite stendi la tua mano non tenerla ferma mettila dentro le ferite e quelle ferite si aprono con la forza dello Spirito Santo e Gesù è riconosciuto come figlio di Dio come risorto proprio dentro le ferite e il Papa commentando questo Giovanni Paolo II ci ha dato una frase bellissima che mi ha aiutato sempre nella mia vita è questa trasformare le ferite in feritoie le ferite della vita le ferite del dolore le ferite dei nostri peccati le ferite dei poveri dell'handicap trasformarle in feritoie di grazia ecco questi tre principi teologici permettete che ve li ridica sono il fondamento del cammino di Don Contiero ma anche nostro come Chiesa oggi figli di Dio lo siamo diventiamo fratelli secondo l'altro non ti è limite non ti è fardello ma ti è fratello terzo le ferite diventano preziose le perdite il momento difficile l'handicap la povertà le mie stesse ferite le realtà della vita e le ferite sapete bene non si possono fintamente coprire non crediamo a quella falsa attestazione che qualche volta ci viene detto mettici una pietra sopra è un inganno atroce non si può mettere una pietra sopra le ferite le ferite non vanno mai nascoste né fintamente risolte ma vanno solo trasformate e si trasformano solo se tu metti dentro le ferite la tua mano il tuo dito la tua esperienza e ti incontri col dolore e ora la ferita diventa feritoia e da dolore diventa speranza da ferita sanguinante diventa feritoia di luce ecco perché questo perché in fondo Don Contiero questo l'ha scoperto in maniera grandissima quando scopre che le periferie di Roma diventano la capacità le borgate di aiutare i borghesi lui giocava molto su questo termine le borgate di Roma sono scuola per i borghesi che vanno nell'istituto Santa Maria dei padri marianisti scopre e dice i ragazzi capiranno chi è Gesù non dal libro non dalla scuola di religione ma dalle ferite della storia e la stessa cosa per l'Africa l'Africa diventa la ferita mettendo questo nostro dito i ragazzi di Bologna i borghesi di questa città come lui li chiamava in maniera ovviamente provocatoria con il suo stile rude ma positivamente capace di stimolare ecco che allora questa questa prassi di conoscenza è decisiva anche nella nostra vita di oggi ed è questo guardate secondo me uno dei nodi centrali anche a livello culturale della realtà sociale e politica di oggi perché sempre di più la nostra società tende a emarginare tende a escludere tende a non riconoscere ora la scuola di vita che ci ha dato Don Contiero è proprio questo fare in modo che le ferite i feriti i poveri le persone più fragili le nostre stesse realtà divengono occasioni di grazia e di luce quello che è stata e che è ancora perché so che i viaggi in Africa continuano ovviamente con la medesima intensità anche se guidati non da lui ma dalla scia di luce che lui ha creato creano una coscienza in chi vive questa esperienza così tornando lui lo dice benissimo nel suo libro chi torna non dovrà guarire le ferite dell'Africa ma il cuore duro dell'Occidente il cuore duro dell'Africa non dell'Africa ripeto ma dell'Europa bianca che diventa sempre più egoista e sempre più chiusa ecco perché allora l'esperienza che questa realtà dice io l'ho vissuta ecco perché ho detto mi sono ritrovato in due momenti della mia vita io ho avuto alcune grazie grandissime che riscopro leggendo questo libro prima di tutto io ho seguito la scia dei preti operai negli anni 70 è stata un'esperienza grandissima anche alcuni preti operai di questa diocesi che sono stati di grande luce perché l'esperienza del mondo operaio delle fabbriche mi ha dato la coscientizzazione che i lontani le persone che in chiesa non vanno ma hanno dentro un cuore grandissimo hanno dentro una capacità di cercare Dio di essere cercatori di Dio estremamente grandi ed è bello guardate la saggezza di chi suda di chi ha fatica di chi lavora di chi lavora sotto padrone io ho imparato lì sono figlio di contadini della Val di No la Mela Melinda non si può non parlare un po' di pubblicità della Mela Melinda l'avete visto in televisione però al di là di questo io ho imparato veramente cosa vuol dire mondo del lavoro negli anni in cui ho lavorato a Porto Marghera prima e poi a Verona una grande ditta la Biasi che fa termosifoni caldaie e mi ha aiutato tantissimo i turni l'ambiente difficile la polvere il rumore soprattutto la cosa che mi ha una fondere a tutti i rumori abituato alla realtà studentesca a metà della teologia ci hanno dato questa esperienza ed è stata estremamente arricchente perché ho capito come appunto Don Contiero allora si sente questa esperienza quanto vale e mi ricordo anche la delicatezza di questo mondo operaio apparentemente rude in realtà dolcissimo un giorno all'inizio io non riuscivo a fare noi dovevamo fare un pezzo ogni 20 secondi fate conto tre al minuto moltiplicate per otto ore e mezzo il mondo sindacale fate conti ricordate il film di Charlie Chaplin no? la sera veniva ti veniva in mente non riuscivo neanche a dormire perché era tale l'abitudinarietà tre pezzi al minuto 180 all'ora eccetera moltiplicate per otto ore e mezza la sera non ce la facevo all'inizio non avevo l'allenamento ora vicino a me c'era un operaio rude bestemmiava spesso eccetera però attentissimo un giorno lui aveva già finito i pezzi quanti ne devi fare? ancora 200 ma non ti preoccupare 100 te li faccio io e si mise lui ha ripreso ha riacceso la macchina ha sistemato e li ha calcolati sul mio conto per dire uno dei tanti episodi e veramente vedi che la mano di Dio opera in tantissime persone lontane apparentemente dalla fede in realtà vicine e la stessa cosa il sud il sud mi ha plasmato sono arrivato al sud tra mille fatiche e problemi poi in realtà ho capito il sud avete visto quel film benvenuti al sud forse no? nel sud si piange due volte quando si arriva e quando si parte io l'ho provato è veramente così quando si arriva e quando si parte vi dico anche quando si arriva con un episodietto simpatico che vi farà molto sorridere ma che vi dà l'idea di quello che in realtà è il sud attraverso un'immagine io ho conosciuto il sud in liceo ci hanno mandato l'estate a fare un'esperienza simile a quella dei viaggi estivi di cui parla Contiero a sistemare a Catania un luogo un sito dove doveva costruire una chiesa e lì c'era la lava tutti i problemi il sole però ho incontrato il mare ho imparato a nuotare eccetera un giorno siamo andati col treno da Catania a Taormina poi dovevamo salire su chi conosce è un giorno caldissimo durante l'estate e fai da sotto a sopra la strada è molto lunga a piedi sotto il sole a metà strada assetati e stanchi e sudati notiamo dei frutti tutti del nord nessuno mai era stato al sud eravamo lì da pochi giorni notiamo frutti strani bellissimi un po' spinosi a dire il vero però ci siamo avvicinati abbiamo tolto le spine più grosse poi quelle altre le pensavamo innocue e abbiamo cominciato a mangiarli si può immaginare i fichi d'India sono cocentissimi in in bocca quando poi ci ha visti così atrocemente doloranti un ragazzo che passava di lì si è messo a ridere e a dire ma siete proprio matti ma non sapevamo non avevamo idea ora lui si è avvicinato col suo temperino ha preso un fico d'India lo sapete bene l'ha tagliato alle parti laterali poi per lungo e ce l'ha offerto tagliato ecco guardate com'è dolcissimo e da lì ho capito cos'è in fondo il sud il sud può avere due volti anche oggi ma non solo il sud l'altro può essere uguale cioè tutto dipende da come lo sai prendere se tu lo guardi il sud in un certo modo diventa difficile diventa complicato diventa tratti anche pungente il sud non è facile da capire però una volta che l'hai capito come dice quel film una volta che sei entrato nella giusta correlazione diventa dolcissimo perché ha dei valori e delle realtà che ti plasmano e che ti cambiano il cuore ecco il sud del mondo o il sud Italia nei libri di Contiero sono sostanzialmente simili cioè lui ha voluto dire se tu lo studi non puoi capirlo se tu lo incontri certo come lo incontri e capite bene che la parabola del fico d'India non è solo per quanto riguarda nord e sud ma è anche tra di noi come guardi l'altro il collega di lavoro come guardi la tua famiglia la persona che incontri se tu lo sai prendere nel verso giusto ognuno di noi tira fuori la parte più dolce più bella più amante più vicina se invece tu lo guardi con ostilità è chiaro che ognuno di noi tira fuori le spine è identico la parabola del fico d'India è la parabola delle relazioni sociali tutto dipende da come noi sappiamo relazionarci con l'altro la stima l'accoglienza la dimensione di ascolto la capacità di farsi interpellare di donare e di essere aiutato a crescere che fa scoprire una dolcezza anche in ambienti difficili ecco il sud del mondo per Don Contiero non era il fico d'India pungente ma era il fico d'India dolce che però ci ha insegnato che quello che tu hai vissuto lì attraverso quel racconto lo devi vivere poi qui e qui è la grande lezione anche oggi di correlazioni sociali e voi capite bene che in questa dimensione ho scoperto ad esempio nel sud una prima parola dolcissima che crea un po' la cultura non solo per questa realtà ma è presente in tutti i cuori profondamente segnati anche dalla povertà la prima parola che ho imparato di linguaggio calabrese lo imparai in treno partendo dal Trentino per arrivare in Calabria la strada è molto lunga poi i treni di allora erano ancora più lenti di quelli di oggi siamo partiti con due studi eravamo in due studenti con tanti libri valigie eccetera ma praticamente quasi nulla per il viaggio per mangiare un boccone a un certo punto invece vicino a noi nello scompartimento c'era creata quella fraternità che oggi non si crea più perché con le frecce rosse guai parlare guai non puoi parlare se sono tutti ognuno sta ognuno ha il suo telefonino ma non ha più il dialogo con le persone davanti no? è molto triste questo modo di viaggiare oggi vabbè comunque in questa dimensione una mamma che stava davanti a noi vide la nostra fragilità e capì che le cose andavano risolte e preparò lei aveva un bambino di 12 anni e preparò il pane ma lo preparò prima per noi due poi per suo figlio capite questo è il sud il primissimo impatto nel viaggio e ci disse una parola meravigliosa che mi ha fatto capire cos'è il sud mi ha ci ha offerto il pane e ci ha detto chi è del sud qua lo sa benissimo favorite favorite guardate che è una parola bellissima favorite perché lì ho capito cosa c'è dietro non ci ha dato gli avanzi non ci ha dato quello che era avanzato ma ci ha dato il dono più bello che lei aveva la parola favorite io la ritengo la parola chiave dei rapporti nord e sud del mondo come le lacrime come le ferite diventano feritoie come il fico d'India sono immagini che ho imparato che sento che in questo libro in fondo vuol dire io ho un dono non lo posso godere da solo non lo posso tenere per me ma lo devo condividere questo è il senso il sud del mondo è segnato e vorremmo che non solo il sud del mondo ma tutte le nostre correnti capite che la lezione di vita è segnata da questi grandi messaggi quando spiegavo l'Eucaristia io spiegavo sempre attraverso la parola favorita perché l'Eucaristia non è altro che questa esperienza e un giorno sistemando una chiesetta in campagna alcuni geniali architetti la ristrutturarono poverissima ma gli diedero una grande dignità e fecero come tabernacolo il forno del pane quando si cuoce la pizza sapete quello bianchissimo con la porta piccolina ma visibilissimo rotondo così quando tu entri la prima cosa che vedi è questo tabernacolo bianchissimo con la porta che ti invita e quando l'hanno fatto mi hanno detto cosa ci scriviamo sopra e non lo so dico vedete un po' la Bibbia scrivete io sono il pane di vita queste cose e allora mi hanno detto ma queste cose vanno bene per una cattedrale per le chiese grandi e che ci vorreste scrivere noi vorremmo scrivere sopra il tabernacolo favorite e favorite ma dico ma siete matti mi raccomando ma quando Gesù ha istituito l'Eucaristia ha detto prendete e mangiatene tutti e nel linguaggio nostro cosa avrebbe detto favorite e allora sopra la tabernacola di questa chiesa sopra Bovalino perché conosce un po' la Calabria c'è proprio questa scritta favorite favorite che è il modo con cui Don Contiero incontrava le persone capite che i tre brani che vi ho dato non sono altro che la specificazione ferite che si fanno feritoie fico d'India che da pungente diventa dolce il pane che se te lo mangi ammuffisce perché te lo mangi da solo ma se lo condividi diventa dono diventa il favorito ecco queste sono le cose che ho imparato da questo libro ho rivissuto in questa esperienza della mia esperienza ma credo anche oggi l'Italia di questo ha bisogno in questo momento ha bisogno veramente di riconsiderare i più piccoli e i poveri come il valore più grande ecco allora il grande dramma dei precari questo grande dramma che voi avete che noi tutti abbiamo perché ormai nord e sud del mondo non è sud Italia non c'è più distinzione forse sulla quantità ma sostanzialmente uguale Molise Calabria Trentino sostanzialmente sul precariato ed ecco la grande domanda come porsi davanti a questa realtà come fare in modo che chi soffre non sia dimenticato da chi cerca di dire io difendo il mio perché questo è il rischio che chi sta bene ha un'età più grande anche l'idea di portare la pensione sempre più in su non lo so se sia la scelta da fare la migliore o se non ci sia l'idea di creare attraverso una tassazione sui pensionati un fondo per i giovani non può essere che la nonna lavora e la nipote non ha lavoro perché questa è l'Italia come fare a rendere qualitaria la situazione come fare a favorire il pane per tutti come fare a rendere dolce il dramma della disoccupazione in che modo potersi accostare ecco le domande attraverso i tre esempi che io vi ho fatto che sono esempi di vita sono le domande sociali e politiche che noi trasmettiamo in questo momento anche in alto augurandoci che arrivino anche in alto proprio perché in questo momento noi crediamo che veramente anche a livello ecco perché ammiriamo ad esempio la saggezza di Napolitano questi giorni la chiarezza sua il modo come lui sta guidando in maniera chiara la priorità che ha dato al sud ai poveri ai giovani soprattutto ecco queste sono le situazioni cioè Don Contiero non è solo un ricordo ma diventa un metodo di dire guarda chi soffre di più ti è maestro perché spesso capite bene io ai ragazzi nella teologia do queste tre S la scienza più la sofferenza diventa sapienza che è poi la frase che dice anche lui no? la scienza più la sofferenza diventa sapienza ciò che veramente noi abbiamo bisogno è proprio questo di unire insieme la scienza e siamo in università con la sofferenza che è la vita perché allora diventa sapienza è ciò che è veramente grande grandissimo questo libro questa esperienza ma anche la realtà oggi è proprio questo imparare la sapienza dalla scienza che diventa capacità di incontrare la sofferenza le ferite e le feritoie diventano luce queste sono le grandi dinamiche in questo senso è chiaro che potremmo aggiungere molte altre cose io aggiungo solo alcune parole decisive sul piano della dottrina sociale della Chiesa ed è l'esperienza che l'anno scorso abbiamo fatto nella settimana sociale a Reggio Calabria con cinque parole importantissime specialmente una le cinque parole che sono state portate in questa realtà sono queste qui ve le dico perché sono estremamente belle e anche di grandissimo valore nella esperienza quotidiana le parole che ci ha dato la settimana sociale sono queste intraprendere ve le dico poi ve le spiego intraprendere educare includere slegare e compiere ve le ripeto uno ciascuno perché la sistemazione dei problemi di oggi le grandi encicliche sociali trovano in questo piccolo documento un cammino che continua una serie preziosissima e io mi auguro così lo dico qui però sarebbe proprio bello se io potessi dare un consiglio a chi sta facendo il nuovo governo oggi di andarsi rileggere le proposte che duemila cattolici l'anno scorso hanno fatto autorevolmente non hanno fatto una dissertazione astratta ma partendo da temi concreti hanno fatto delle proposte dirette specifiche in particolare alcune che sono particolarmente importanti intraprendere intraprendere la parola chiave oggi ci vuole coraggio per investire oggi ci vuole la forza ci vuole la speranza grandi scrittori anche psicologi raffinati dicono nel 47 50 50 negli anni 50 l'Italia era più povera ma c'era più coraggio c'era più voglia di futuro oggi ci sono più soldi ma non c'è la stessa cosa sapete cosa ci manca l'ho spiegata a Madrid con tantissima gioia ai ragazzi ho riletto la poesia di Leopardi l'infinito ho riletto la poesia di Leopardi l'infinito e guardate ho avuto non io la poeta dell'applauso i grandi i ragazzi si sono immedesimati in questa situazione un bisogno di infinito ce l'abbiamo davanti ma davanti a noi questo bisogno di infinito c'è una siepe ecco oggi c'è una siepe davanti al nostro futuro questo è il problema chi si ferma la siepe non costruisce nulla ecco la grande fregatura oggi è proprio questo essere limitati dalla siepe ma la grande proposta dell'uomo di buona volontà di un'università della chiesa è proprio questo comparare come dice il testo del poeta bellissimo sedendo e mirando va comparando la gioia di un infinito con una voce che è il vento il vento mi fa da mediazione diremo in termini filosofici da analogia entis le piccole cose mi richiamano le grandi cose i piccoli segni ecco abbiamo un bisogno immenso di una parola fondamentale che si chiama la parola oltre l'oltre non il davanti ma l'oltre oltre la siepe intraprendere vuol dire oggi credere nell'oltre nelle cose più grandi pensate anche chi si sposa pensate chi diventa prete pensate chi nella vita costruisse il proprio futuro oltre ecco questa è la cosa importante seconda parola importante è la capacità di educare sull'educare mi fermo solo su una parola sostenere i genitori sostenere gli adulti più ancora dei ragazzi perché oggi chi è in crisi è la figura del docente e la figura del genitore terza parola su cui è bello che ci fermiamo un attimo ed è la parola includere le nuove presenze con delle proposte dirette sembra di sentire da un contiero dietro a proposito degli immigrati ci sono delle proposte politiche dirette e poi ci sono delle proposte sociali e culturali ve ne leggo alcune fatte solo qualche minuto ancora vi tolgo ma sono molto belle purtroppo poco valorizzate anzi in un ambiente di lega molto dimenticate una lega che ieri non si è nemmeno presentata dal futuro presidente capite bene le proposte sono queste riconoscere la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia questo non l'ho fatta io la proposta ecco guardate veramente sono così belle rileggerle queste proposte così vive oggi riconoscere non concederla i diritti non si concedono ma si riconoscono qui siamo in un alma mater universitatis riconosce la cittadinanza ai figli degli immigrati secondo dare agli immigrati il voto nelle elezioni amministrative terzo accedere al servizio civile farli accedere al volontariato e rileggere rivedere complessivamente la legge sull'immigrazione che è veramente iniqua anche questa sapete bene e ci auguriamo che il nuovo governo abbia questo coraggio proprio in memoria anche di Don Contiero poi proposte culturali e sociali valorizzare le intelligenze riconoscere i titoli di studio di altre terre aiutare e sostenere l'imprenditorialità che gli immigrati stanno già dimostrando difendere la dignità degli immigrati nel campo del lavoro spesso schiacciata che non avvenga più lo scempio avvenuto a Rosarno l'anno scorso vi ricordate la salute e il carcere non sia oggetto di discriminazioni proposte educative togliere spezzare l'iniqua eguaglianza spesso appare che appare sui giornali tra immigrazione e criminalità tristissimo questo sui giornali spesso si uniscono le due cose separare le paure superandole con la corretta informazione con un linguaggio preciso e rispettoso e diffondendo le esperienze positive con un dialogo sulle cose già attuate ma anche per la Chiesa ogni comunità ecclesiale dovrebbe essere laboratorio di speranza annuncio di Vangelo rispettoso e liberante tutela dei diritti degli immigrati dialogo ecumenico mediazione culturale cura dei valori etnici tipici di ogni popolo sostegno al lavoro in modo tale che ogni casa si senta come una Chiesa ogni Chiesa come casa ecco poi c'è l'esperienza dello slegare e qui c'è tutta una riflessione sul mondo universitario perché possa essere veramente il nostro futuro dando slegando le capacità cioè dando valore al merito recuperando però anche le opportunità e dando a ciascuno di noi la capacità di essere autentico e sul piano politico l'ultimo punto completare ci sono quattro proposte dirette primo maggiore democrazia nei partiti secondo la revisione della legge elettorale questa non la dico io ma duemila delegati l'anno scorso l'hanno fatta un controllo sul federalismo che sia autenticamente solidale e l'attenzione al sud ecco io vi ho letto queste cose perché come vedete i grandi uomini hanno fatto la storia ora tocca a noi qui c'è dentro veramente un segreto grandissimo una serie concretissima di dire quello che Don Contiero aveva fatto che io vi ho reso attraverso quelle immagini ecco l'ho attuato in una serie di proposte sociali e politiche precise a noi raccoglierle discuterle e soprattutto farne immensamente tesoro e allora veramente il ricordo di una figura diventerà capacità oggi di speranza e guarderemo oltre la siepe quello che io credo anche da questo dibattito ne nasca è la voglia di dire fa o Signore che il mio cuore non si appesantisca mai ed è proprio l'augurio che vi faccio anche per l'avvento grazie e buon cammino grazie 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 grazie